Questo progetto di sensibilizzazione della cultura finanziaria per la piccola e media impresa cade in un momento molto importante che è l'applicazione della normativa sulla crisi e sull'insolvenza di impresa. Questo è un tema che coinvolge soprattutto le piccole e medie imprese che hanno una grande sensibilità sulla capacità di produrre e di vendere l'oggetto del loro lavoro principale, ma hanno spesso una scarsa capacità di costruire un'informazione che sia utile al mondo soprattutto delle banche per concedere credito. E quindi il tema della qualità dell'informazione è il tema che come università, in particolare come dipartimento di management, cerchiamo di inserire all'interno del progetto proprio per consentire all'imprenditore medio e piccolo di costruire con un linguaggio tipico del suo modo di fare impresa, dell'artigiano, del commerciante, in modo che la banca possa comprendere, supportato dalla funzione importante del dottore commercialista, quello che è il modello di business, cioè l'elemento che porta a rischio. Questo di nuovo è estremamente importante perché se una volta c'era stabilità nel modello di business e quindi nella misurazione del rischio, oggi l'incertezza per forza di cose comporta la necessità di misurare costantemente questo rischio di impresa e questo è il contributo che noi contiamo di apportare.